Cinque insegnanti di Verone e provincia come referenti per famiglie, colleghi docenti e operatori per aiutare l'integrazione dei bambini autistici. Parte l'innovativo sportello che sarà coordinato presso l'istituto comprensivo Fratelli Corrà di Isola della Scala. Se le brutte notizie di cronaca spesso distruggono la fiducia, l'esito di questa importante sinergia tra ufficio scolastico, servizi sociosanitari e associazioni restituisce speranza e ossigeno alle famiglie, costruendo un'importante rete di supporto per i bambini autistici. La proposta del corso è arrivata direttamente presso gli istituti e abbiamo aderito liberamente, nel senso che chi aveva interesse ad effettuare, a svolgere questo, ad imparare più che altro quelle che erano queste nuove funzioni. È nato praticamente dalle problematiche che ci trovavamo ad affrontare all'interno della scuola per avere degli strumenti in più per riuscire a portare avanti quello che è il nostro lavoro. Dopo, alla fin fine, il corso è durato per quasi un anno e ha coperto più di 60 ore. Ci siamo trovati ad affrontare diversi argomenti con specialisti, neuropsichiatri, insegnanti che lavoravano, psicologi, quindi tanti dell'ambiente ASL e tanti dell'ambiente scolastico direttamente. Noi adesso saremo contattati dalle famiglie, oppure dalla scuola, oppure dalle aziende ospedaliere che si trovano ad avere delle difficoltà con il rapportarsi con questi bambini autistici. Quindi noi adesso cercheremo di dare delle risposte e di fare da tramite tra la famiglia, l'ASL e la scuola. A promuovere il corso finalizzato alla realizzazione dello sportello, la Confederazione delle Associazioni Soggetti Autistici, che ha ottenuto l'attenzione del Ministero della Pubblica Istruzione. Dal corso di sei mesi, che ha visto la partecipazione di 60 insegnanti da cinque province d'Italia, escono cinque tutor per il territorio veronese. Una formazione che sarà a servizio di famiglie, docenti e operatori, come coordinamento di un importante supporto all'integrazione. Sicuramente l'integrazione è possibile e abbiamo dei casi che hanno dato dei riscontri estremamente positivi. Questo grazie molto alla sensibilizzazione che viene fatta. In base a quella si hanno le conseguenti risposte. Questo vuol dire che lì dove c'è un'attività condotta dai docenti, piuttosto che dagli operatori sanitari che fanno una sensibilizzazione sulla classe e sul corpo docente, allora lì si riusciamo a vedere un'integrazione del soggetto all'interno del gruppo e in quei casi veramente il risultato è estremamente positivo. Se questa attività non viene fatta, chiaramente l'integrazione diventa sempre molto più difficile. Diciamo che l'integrazione diminuisce con l'avanzare dell'età.